Il Il secondo appuntamento per l'Umbria Master Cross è alla cantina di Filippo. L'appuntamento dopo quella gran bella scorpacciata di Cross a Petrignano con il Giro d'Italia di ciclocross arriva quindi alla cantina di Filippo. La cantina di Roberto di Filippo, siamo in una giornata non certo meravigliosa per quanto riguarda il tempo, la nebbia, il freddo, il gelo, la brina, c'è di tutto. E ci sono questi bellissimi filari di vigna che ricordano la tradizione di Roberto di Filippo nel fare vino biologico. Tutto è pronto, sono più di 150 i concorrenti che partecipano a questo secondo appuntamento sia per quanto riguarda la prova dei crossisti che quella del minicross. Con questo freddo, tutti a maniche lunghe e coperte, c'è il nostro Massimo Ubaldini immancabilmente in maniche corte, il nostro Rambo Orvietano. Vede, Marco Corietti ha la sciarpina sotto perché si sente freddo. Roberto di Filippo dà il via e si parte con la fascia 1, quella riservata alla categoria degli juniors, a quelli che sono i più giovani di questa avventura. E poi via via si parte con gli altri. Nella fascia 1 ci sono i Master 1, Master 2 e Master 3, gli allievi giovanissimi della G6, gli esordienti. Insomma, è sicuramente la gara più ricca da un punto di vista di partecipazione. C'è anche la categoria delle donne. È una gran bella giornata di sport, immersi in questa campagna deliziosa tra Cannara e Bevagna. La cantina di Filippo è proprio a confine nel comune di Cannara. Ed è una volontà da parte di Roberto di Filippo e di chi collabora con lui, con l'azienda, di sposare l'idea dello sport in cantina per portare qualcosa come 350 persone, tra accompagnatori ed amici al seguito, a vedere quella che è la sua cantina, che produce, come dicevamo, in maniera particolare vini biologici. Si parte, c'è anche il Presidente Carlo Roscini, anche lui intabarrato per il freddo violento che fa oggi. È davvero una gran bella partenza. Diamo uno sguardo con le immagini di Danilo Bellini anche a quello che è il contorno dell'azienda, della cantina di Filippo, con gli animali che sono presenti nella fattoria. In fascia 1 c'è lo squadrone della UC Pedrignano. I colori bianco, rosso e blu sono dominanti. Lo hanno fatto anche nella prova di apertura di Pedrignano. Ma in questa giornata, vedete, in testa c'è Michele Corradini, Juniors che partecipa in questo momento con buoni risultati al Giro d'Italia a ciclocross, in testa. Ovviamente è partito con una manciata di secondi di vantaggio rispetto al resto del gruppo. E dietro c'è la categoria dei Master con Marco Gorietti all'inseguimento. E dietro c'è un altro della UC Pedrignano. Oltre a Corradini e Marco Gorietti c'è anche Luca Agostinelli che corre con questa bici ibrida per quanto riguarda il ciclocross. Una bici da mountain bike che monta, con il manubrio da mountain bike, che monta pneumatici copertoni da ciclocross. Eccolo qua, Luca Agostinelli inquadrato in questo momento con il numero 57, con la sua ibrida, che sta recuperando, andando al terzo posto. Con il numero 54 c'è Mauro Cozzari della Bikeland Team di Città di Castello, che organizzerà la terza prova di questo Umbria Mastercross. Ancora un passaggio per i più piccolini e, come dicevo, c'è questa sorta di sfida tra i bianco, rosso e neri della Bikeland Team di Città di Castello e i colori bianco, rosso e blu della UNC Pedrignano. Vergari è un corridore che si presta molto a arrivare nella nostra regione per partecipare all'Umbria Mastercross per cercare un posto da protagonista. Veterano del ciclocross, un uomo che sa andare davvero molto bene nel ciclocross in bicicletta con quella che è la sua tecnica e poi piano piano tutti gli altri. C'è anche Sarti con il numero 72, anche lui fedele alla mountain bike, stile da mountain bike. E vedete che di tanto in tanto qualche piccolo problema si trova lungo la strada. Fa freddo, fa pure molto freddo. Diamo dunque uno sguardo per vedere come vanno le cose. Per quanto riguarda la categoria delle donne, davanti a tutti c'è Monica Bellachioma della Soriano del Ciclismo, il numero è il 94 per lei. Al secondo posto c'è Laura Sopranzi del Centro Bici Team di Terni con il numero 93. Romina Perugini con il numero 91 della Biceland Team 2003. E poi la sua compagna di squadra, Carmelina Esposito, con il numero 92. Intanto qui c'è un problema per Michele Corradini, lo vedete in questo momento nella parte alta del percorso con la bici in spalla, problema meccanico per lui. Nella categoria che andiamo a vedere ora, quella della categoria G6, c'è Marina Laezza, donna, la femminuccia dell'Eurobici di Orviedo con il numero 167, che la fa da padrona davanti ad Alessio Pantalla della Petrignano con il numero 162, Guido Draghi dell'Arezzo con Tommaso Bazzica della Petrignano e poi i due dell'Arezzo Bike, Luigi Foglianesi e Edoardo Occhini con la settima posizione per Nicolas Martinelli del Team Bike Miranda. Scorriamo la classifica per arrivare alla categoria Lievi e Sordienti con il primo posto di Francesco Pirro del Team Cobo Pavoni, un team marchigiano che dà molto al ciclocross con i due fratelli Pavoni. Piro Francesco davanti, davanti a Mirko Kola del Club Corridoni, a terzo è Leonardo Mosca che avete visto prima in quadrato della Nestor Seamarsciano, Giacomo Rossi del Team ciclistico Sant'Elpidio con il numero 147, Leonardo Assetati della Soriano Ciclismo, Alessandro Cresca del Team Eurobici di Orvieto, Andrea Ercolani della Bike Run Team e Luca Taschini dell'Eurobici insieme con il compagno Riccardo Bacocco, sempre orvietano. E andiamo ancora più avanti a vedere, c'è da ricordare la categoria degli Juniors con Michele Corradini, l'avete visto prima andare davanti in testa al gruppo, ha recuperato il suo svantaggio per aver fatto praticamente metà percorso con una bici in spalla nei confronti di Marco Corietti, nella categoria Juniors Michele Corradini, numero 81, è davanti a Mattia Offidiani che corre per i colori del team ciclistico Sant'Elpidio. Abbiamo detto la prova del Cross Sagrantino Cantina di Filippo, la prova dell'Umbria Master Cross è la terza edizione del Cross del Sagrantino organizzato dal gruppo ciclistico Bevagna, con Daniele Moretti che ha fatto davvero le cose bene in grande, per quanto riguarda il passaparti ci saranno gli amici della Prologo di Cantalupo che daranno la loro preziosa collaborazione. Mi piace ricordare che un club come questo, come quello del gruppo ciclistico Bevagna, riesce ad organizzare importanti manifestazioni, dalla prova dell'Umbria Challenge di mountain bike a quella che è la gara per la categoria elite, quindi una gara internazionale con la medaglia d'oro Pietro Palmieri alla fine di agosto e poi l'impegno per il terzo anno per il Cross del Sagrantino. Questo fa davvero un enorme piacere ricordarlo perché significa che c'è una società che si impegna e che sa quanto possono essere grandi le difficoltà. Un'avventura per il terzo Cross del Sagrantino che si rinnova con la Cantina di Filippo e il gruppo ciclistico Bevagna. Andiamo a vedere anche il resto del gruppo per quanto riguarda la Master 3, Master 4, Master 5 ed oltre perché siamo lì nella categoria. La Master 4 vede la prima posizione di Marco Gorietti, sta giocando testa a testa come avete visto, la posizione di leader, ma nel ciclo cross, ricordo, è solamente un valore fittizio, quello della assoluta partendo le categorie con tempo sfalsato di 15 secondi tra l'uno e l'altro. Però Marco Gorietti se la sta giocando testa a testa con Michele Corradini e soprattutto dietro di Lugli c'è un altro della Petrignano, Luca Costinelli, che sta rincorrendo questa avventura. e poi abbiamo Patrizio Savioli della Petrignano con il numero 53, Mauro Cozzari della Baikland Team di Città di Castello che è in quarta posizione, Carlo Arcaleni anche lui della Baikland numero 52 e poi quinto Lorenzo Rosati della Petrignano e Marco Brecciaroli della Olimpia Cicli con il numero 56 che è in settima posizione. Saliamo di categoria con Massimo Ubaldini 47 e 44 sarà il tempo finale di Massimo Ubaldini mentre per quanto riguarda Marco Gorietti sarà di 45 e 44. Massimo Ubaldini categoria Master 5 davanti a Paolo Sebastiani, Baikland Team Maurizio Di Giuli del Centro Bici Team di Terni con il numero 65 Luigi Simonetti della Cucco & Bike con il numero 64. Nella categoria Master 6 oltre Franco Di Vita della Ponte Cycling Team con il numero 74 davanti a Stefano Sarti della base Bike Shop e poi Giancarlo Rivaroli il postino volante della Petrignano con Sandro Chieruzzi Avis Amelia Pietro Angeletti del Team Bike Miranda Carlo Donnini dell'Avis Sassoferrato Mauro Vigna della Bike Land Team e Carmelo Urstino della Cicli Montanini che lui come dice sempre me la prendo con calma e non voglio assolutamente andare di corsa Patrizio Savioli anche lui con la mountain bike ibrida anche per lui la vittoria braccia alzate con questa accoppiata Marco Gorietti e Michele Corradini se stanchi alla fine poi terzo arriva ancora Petrignano con questa avventura da podio un tris da calare come podio per quanto riguarda Luci Pedrignano al quarto posto ci sarà Patrizio Savioli per l'assoluta lo ricordiamo per i più curiosi al quinto posto c'è Mauro Cozzari della Bike Land Team e adesso questa bellissima avventura per quanto riguarda la categoria dei giovanissimi sono le speranze e devo dire che guardate che bel gruppo che c'è qui nella seconda prova dell'Umbria Master Cross un gran bel numero di ragazzini che vengono a correre che non vogliono smettere la loro passione guardateli come corrono la giornata è terribile dal freddo qualcuno corre imbacuccato nella giacca a vento qualcuno con il giacchino più leggero ma è questa splendida straordinaria volontà per i ragazzini e per le ragazzine perché ci sono i ragazzini e le ragazzine soprattutto quelli del Massa Martana che sono davvero tanti ce n'è qualcuna anche dell'Orvieto qualcuna anche del Team Bike Miranda insomma se la gustano un po' tutti vogliono correre vogliono andare a divertirsi la domenica c'è anche questo piccolino che ci prova a fare i primi passi in bicicletta ovvio che sono tutte biciclettine da mountain bike perché le vedete non è che c'è qualcuno sono pochissimi quelli che hanno la bici da ciclocross da piccoli in questo mondo questa è la categoria G1-G2 vengono raggruppate e lui un po' di spinta gliela diamo però arriva fino alla fine e gli incitamenti sono sempre uguali se ne sentono di grida lungo il percorso per questa categoria del mini cross che fa davvero capire quanto sia l'attaccamento sano, bello e genuino io tante volte dico eh ma questi genitori strillano troppo parlano troppo in verità è una bellezza straordinaria rivedere tutti quanti così accaniti, così felici così contenti di partecipare ma sì che sia una sana e genuina passione che si sia anche il grido forte per i bambini però lo dico per i genitori vi posso assicurare che mentre un bambino un ragazzo, un corridore è lì impegnato quello che gli viene detto le grida, le urla credetemi non riesce né a capirlo e tantomeno a sentirlo perché ha la testa impegnata sulla bicicletta e sulla corsa e potete credermi che tra cento voci non riesce a capirne a capirne uno lo diciamo solamente perché tante volte qualcuno pensa se parlo forte se strillo forte il ragazzino mi ascolta e mi sente non è così non lo ammetteranno mai i ragazzini con voi genitori ma con lo zio bici magazine lo fanno spesso e volentieri dicendo non sentiamo nulla c'è la gara ci gustiamo la gara punto e stop diamolo uno sguardo per vedere come sono le situazioni nella categoria della della g abbiamo detto nella g1 Tommaso Francescangeli della Petrignano nella g2 Lia Baccello del team Eurobici di Orvieto nella g3 Edoardo Rulli della Petrignano e poi nella g4 con questa bella battaglia tra Riccardo Ricci del team Eurobici di Orvieto che batte Matteo Laloni del Luciclone terzo è Raffaele Mosca della Nestor Seamarsciano davanti a Raffaele Laezza del team Eurobici di Orvieto poi ovviamente la categoria G5 e G6 come abbiamo detto ha partecipato già a quella che è stata la gara di prima fascia i G5 e G6 corrono con minor giri da percorrere con i più grandi e il modo per farli avvicinare al mondo del ciclo cross una gran bella giornata c'è questa nebbia questo freddo questo questo gelo ma il sole piano piano fa capolino spunta fuori il freddo se ne sente sempre di meno guardate che bella lotta tra Laloni e Ricci Laloni davanti Ricci dietro con Mosca che insegue come tutti come vedete sono tutti con la bici da mountain bike il mini cross ancora nessuno prova ad usare la bici da strada bene bravi questi ragazzi bravo questo duello sempre continuo per quanto riguarda la G4 con il nostro Ricci e il nostro Laloni avete visto foto di famiglia con Daniele Moretti moglie e figlio al seguito e piccolo erede al seguito e adesso si riparte con la seconda fascia Master 1 Master 2 Master 3 con la categoria degli elite che partecipano e che vanno a giocarsi la vittoria in questa seconda prova del ciclo cross nella categoria elite c'è un bel gruppetto di partecipanti elite e master cross sono davvero una bella sfida andiamo subito a vedere un po' come sono andate le cose nella categoria elite under 23 Luca Orsino del Veloclub Senegallia con il numero tre vince davanti alla coppia Pavoni Pietro Pavoni numero cinque e Paolo Pavoni con il numero quattro team Cobo Pavoni alla fine Luca Orsino chiuderà con il tempo di 59 09 Pietro Pavoni con il tempo di 59 10 e con il tempo di 1 07 Paolo Pavoni la quarta posizione per Riccardo Ridolfi del team Scott New Limits con il numero uno e poi Michele Minucci Timacqua e Sapone per quanto riguarda i colori della Gubbio Ciclismo Mogagliana con Filippo Righi numero due della Villa Fontana e Alessandro Virgili del Veloclub Senegallia il saluto anche dei piccolissimi spettatori Leonardo Chieruzzi impegnato questa è la sua categoria della Master Sport categoria fino al 31 di dicembre poi passerà elite sono i nuovi regolamenti dietro c'è Leonardo Caracciolo numero 11 che sta lottando per la prima posizione per quanto riguarda la categoria del Master Sport andiamola a vedere questa categoria della Master Sport perché è importante vedere quelle che sono le nostre leve con Leonardo Chieruzzi Avis Amelia che chiuderà con il tempo di 59 47 terza posizione assoluta per lui Leonardo Caracciolo chiuderà con un ritardo di 32 secondi del centro bici team di Terni e poi c'è Lorenzo Calanca ciclifatato con il compagno di squadra Luca Marcozzi e poi abbiamo quinto Igor Vigiani del team Vallone davanti ad Alessio Polidori che corre come individuale e Mattia Proietti del gruppo ciclistico Bevagna e abbiamo parlato anche di quelle che sono le categorie Master 3 Master 4 Master 1 Master 2 e Master 3 la diamo subito a vedere con Simone Grilli nella categoria Master 1 che chiuderà con il tempo di 1,50 1 minuto e 50 centesimi Battistelli Extreme davanti a Benedetto Cepitelli Petrignano Daniele Moretti che corre per i colori di casa del gruppo ciclistico Bevagna 1,06 e 52 quarto Luca Vecchi della Bikeland Team con il tempo di 1,05 e 20 Master 2 quella che ci vede più da vicino Matteo Donati che ha fatto davvero una gran bella gara è in crescita il ragazzo di città di Castello Teo come lo chiamano tutti i suoi amici 1,02 e 43 davanti a Manuele Grelli del Parlesca Racing Team terzo è Andrea Capponi della Cocco in Bike davanti a Valerio Brugnoni anche lui del Parlesca e Roberto Massarelli del centro bici team di Termi Alberto Laloni Petrignano vince la categoria della Master 3 davanti a Marco Pansolini della Cicli Clementi tempo finale per Alberto Laloni 1,04 Netti per Marco Pansolini 1,04 e 44 poi abbiamo Davide Lazari in terza posizione della Bicisport Fabriano Michele Marsiglietti della Bikeland Team che precede Germano Consari della Petrignano compagno di squadra Paolo Innocenzi ed Antonio Grasso del Team Cingolani ci avviciniamo alla conclusione le immagini sono su Pavoni con Ursino che è dietro in mezzo ai due fratelli Pavoni Ursino alla fine però viene fuori con la sua prepotenza con il numero 3 andrà a vincere con un testa a testa che vedremo dalle immagini che abbiamo registrato la nebbia è oramai finita inizia un po' di sole Matteo Donati eccolo qua in questo momento in quadrato è nella sua quarta posizione assoluta immagini anche per i nostri amici della Petrignano che hanno fatto davvero una gran bella squadra in questo 2013 Caracciolo vedete come se la sta giocando nella categoria Master Sport con Ursino è stata davvero una gran bella gara quella che ci siamo visti in fascia 2 con gli Elite che l'hanno fatta davvero da padrone in vista di quello che sarà il prossimo campionato italiano che ci sarà ad Orvieto Grelli inquadrato in questo momento e quindi buone speranze dicevo di questi regolamenti che cambiano chi ha fatto un anno in bici da Elite e quest'anno torna ad essere Elite intanto è inquadrato Alberto Laloni con il numero 44 davanti al gruppo della Master 3 davvero sta andando molto bene Laloni in questa stagione e le inquadrature ancora per Leonardo Chieruzzi che va a vincere come dicevamo la sua categoria della Master Sport sarà uno degli ultimi appuntamenti resta ancora Città di Castello e poi il 29 di dicembre con Nocera e poi passerà dal primo di gennaio con la categoria Elite quindi Leonardo Chieruzzi i campionati italiani li farà con la categoria Elite mentre resta Master Sport Leonardo Caracciolo che corre per i colori del centro bici team di Terni Marsiglietti numero 46 anche lui impegnato e ancora una volta questa bella avventura per quanto riguarda la categoria degli Elite con i due fratelli Pavoni che se la stanno giocando con Ursino alla fine Luca Ursino sarà davanti a tutti con il tempo di 59.0 2.09 al secondo posto in volata Pietro Pavoni con il numero 5 e poi Paolo Pavoni con il numero 4 questo per ricordarvi un po' come saranno le situazioni finali mentre stiamo seguendo inquadratura ancora per il nostro capitano per il nostro Daniele Moretti che se le merita queste inquadrature perché è andato abbastanza forte nonostante la fatica per organizzare la gara c'è Mauro Vigna che guarda a bordo pista e poi abbiamo il nostro Massimo Baldini che finita la gara si è coperto perché oramai non c'è più l'adrenalina della gorsa e bisogna coprirsi buona la prestazione anche per l'alfiere dell'acqua e sapone la casacca nera della Mogagliana di Gubbio le immagini ricordo sono quelle di Giampiero Tasso e quelle di Danilo Bellini che nonostante il freddo ci regala queste belle immagini e ancora un'inquadratura per Matteo Donati l'abbiamo detto che questo ragazzo sta andando davvero molto bene anche per Laloni che continua a guidare la categoria della Master 3 ancora un'inquadratura per Daniele Moretti se la merita giustamente oggi è la sua gara ha predisposto tutto nel migliore dei modi per una gara che si corre in mezzo alle vigne e agli uliveti della cantina di Filippo di Cannara Cozzari anche lui con la bici da ciclocross una piccola sbandata per Ridolfi che ha fatto una brutta partenza problemi già da subito per lui e adesso noi andiamo a vedere la chiusura di questa gara con ancora Alberto Laloni nelle ultime fasi di questa competizione Caracciolo se la sta giocando testa a testa con Leonardo Chieruzzi hanno combattuto per tutta la stagione nella mountain bike continuano a farlo per questa avventura del ciclocross e adesso ci siamo alla chiusura con la vittoria di Ursino a braccia alzate eccolo l'arrivo con la volata sulla salita va davanti Ursino e va a battere Pietro Pavoni in questa avventura di Cannara per la seconda prova dell'Umbria Master Sport la terza piazza spetta all'altro Pavoni e poi la quarta piazza va per il nostro Leonardo Chieruzzi che precede dunque l'altro Leonardo Chieruzzi l'ottimo vino l'ottima compagnia l'ottima cantina l'ottima gara l'ottima compagnia soprattutto direi no? che vuoi dire? beh ascolta quando praticamente ti vengono in azienda 160 in maggior parte giovani e poi anche adulti che stanno bene si divertono fanno dello sport sano io penso che la cantina abbia svolto una delle sue funzioni che è quella praticamente di fare da centro di aggregazione per la gente quindi meglio di questo amicizia vino buon mangiare sport è il massimo senti il vino come sta andando questa? ti chiederei una domanda di riserva perché è stata una stagione molto molto difficile però è abbastanza buona e come agricoltori sappiamo che dobbiamo far fronte anche ad annate molto difficili tantissimo perché è sempre un gran lavoro per organizzare un evento come questo per farlo riuscire bene più che altro perché organizzarlo non sarebbe niente ma è fare un buon lavoro che ci vuole fortuna la collaborazione di tutti i miei soci e della prologo di Canta Luco Castelbuono che ci ha dato una gran mano sfamare questi atleti che sono venuti da tutta l'Umbria ed intorno senti un ringraziamento a questo connubio che avete scelto con di Filippo è la base se non c'era lui diciamo che non sarebbe neanche venuto in mente di fare un cross senza l'appoggio della bellissima cantina e di tutto quello che ci ha messo a disposizione lui veramente tantissimi partecipanti sia negli adulti che nei bambini veramente un grande successo per questo vorrei ringraziare tutto il gruppo ciclistico Bevagna Daniele Moretti tutti i collaboratori la prologo di Cantalupo Castelbuono che anche questa mattina era presente qui per collaborare alla manifestazione Roberto Di Filippo tutta la sua famiglia tutta l'azienda che veramente con grande entusiasmo grande passione hanno ospitato questi atleti questa mattina in una manifestazione che ha visto partecipazioni di atleti dalle regioni Limitrofe Marchigiani Abruzzesi Laziale Toscani quindi una grande partecipazione veramente una grande seconda prova del Master Cross dopo la prova di Pedregnano che essendo anche prova del Giro d'Italia ciclocross aveva registrato il numero di partecipanti finora imbattuto nelle tappe del Giro d'Italia ciclocross quindi un ciclocross in Umbria che veramente sta andando molto bene e un buon auspicio per il campione italiano che ci sarà l'11 e il 12 di gennaio ad Orvieto organizzato da Team Rubici Grazie a tutti